sta salendo secondo me perché l'hanno chiamato di sotto eccolo chi c'erchi faccia il parcheggio aspetta cos'è che c'è su qua c'è il coso se vuoi tirare le giugie bravi e cominciano perderle aspetta vanno va dai sagomoccio sagomoccio ma adesso possiamo entrare a sto polio facciamo un altro giro dylan dai ancora uno no andiamo a fare la spesa un ultimo e dopo andiamo abbiamo tutto il tempo dai facciamo un ultimo giro dai dylan funzionano devo vedere se vanno la cosa importante dai dentro c'è un periodo di spesa si è un beccato che non c'è lo schermo però è bello maschino sti capelli non sono i canacchion che riesco ti piace che c'è guarda comunque le mande aspetta no no aspetta non ci pietra ci palica che apre andiamo no no aspetta dobbiamo usare si dopo basta però lo lasciano libero per chiedere usato si e che dopo quando usciamo non si rifaccia un giri ne? tira su bene le braghe perchè c'è la pietra te le perde tira su i pazzoloni dylan allora arrivai tirati su vamos aspetta che si chiude aspetta che si chiude ci raccontate? ci raccontate? ci raccontate? ci raccontate? adesso però fai di bene? mh